A partire dal 15 novembre i cittadini dotati di identità digitale come lo SPID o la carta di identità elettronica possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma senza recarsi allo sportello fisico. La città di Pordenone rimane al passo con le innovazioni anche per quanto riguarda l'innovazione informatica per agevolare i nostri cittadini che oltre ad avere una bella città avranno anche l'opportunità di eseguire alcune operazioni per quanto riguarda l'anagrafe nazionale in questo punto perché si parla di anagrafe nazionale e poter fare dei certificati a loro cittadini utili da casa. Basta avere un sistema informatico, avere lo SPID che è questo nuovo processo che ci permette di entrare in archivi personali ma gestiti a livello nazionale dagli enti pubblici, alcuni enti pubblici e dunque l'innovazione è che non si devono più chiedere permessi, non si deve più recarsi nel proprio comune non si deve più attendere file ma si può fare da casa con un sistema informatico e avere almeno 15 certificati anagrafici che va dalla città di residenza, stato a famiglia e quant'altro. Ancora la novità è che non c'è nessun bollo mentre se si recca il comune per fare questa città c'è un bollo da pagare sul certificato facendolo dal sistema informatico proprio si è anche esenti dal bollo. Il comune di Pordenone che ha completato il trasferimento in ANPR dei propri dati il 21 aprile 2021 invita ora i cittadini a utilizzare questo nuovo servizio che va indubbiamente nella direzione della semplificazione. Questo è un progetto che ha preso corp ed è estremamente importante per consentire al cittadino di risparmiare tempo di risparmiare anche carta quindi con aspetti ambientali importanti per rendere la vita più facile ai cittadini. La possibilità di scaricarsi 15 certificati direttamente dal computer o dal telefonino senza fisicamente venire in municipio fa parte di un progetto nazionale della digitalizzazione della pubblica amministrazione significa andare al passo con i tempi, agevolare la vita dei pordenonesi e contestualmente rendere anche più fluido il lavoro dei nostri uffici.